Siamo al ventitreesimo canto del Purgatorio e abbiamo a che fare con i golosi. Non è molto difficile questo canto, quindi vediamo di svolgerlo in modo leggermente più veloce. Mentre che gli occhi per la fronda verde ficcava io, sì come far suole chi dietro agli uccellini sua vita perde, lo più che padre mi dicea figliuole viene oramai che il tempo che ne è imposto più utilmente compartirsi vuole. Allora nel canto precedente da una pianta verdeggiante capovolta arriva una voce che propone degli esempi di moderazione e Dante incuriosito cerca di capire da dove arriva questa voce. Quindi come al solito vi dico la A è anastrofe, non sempre io mi riferirò a questi simboli, per l'anastrofe faccio la costruzione, per il troncamento TR ho evidenziato un corsivo, l'anastrofe è la parte sottolineata. Ecco, tanto per capirci. Quindi mentre io ficcava gli occhi dentro la fronda verde, fronda deriva da fronda in latino, foglia, poi per estensione anche una macchia, una macchia verde, no? Una macchia di bosco può essere intesa, fronda. Come, e abbiamo quindi una similitudine, come suole fare chi perde la sua vita dietro agli uccellini, cioè l'uccellatore, il cacciatore. Notate come Dante, in perfetta sintonia con certe riflessioni di Agostino, prima ancora riflessioni di Seneca, insiste sull'importanza del tempo dato all'uomo. Già Seneca diceva, non è la vita dell'uomo breve, ma è l'uomo che utilizza in modo scorretto il tempo che gli viene offerto. Oggi, più che cacciatore, abbiamo i collezionatori di ogni cosa più stupida, no? E perdere tempo a correre dietro un pallone, e perdere tempo ad abbellire o a ingigantire le nostre masse muscolari, però si perde di vista l'essenziale. In modo particolare, oggi si va dietro alle apparenze. E l'apparenza effettivamente spesso inganna, si ritorna poi al discorso della maschera pirandelliana. Quindi, fare il cacciatore sistematicamente è perdere la vita, è trascurare quel che è importante. E anche Dante, anche se in questo caso non andava dietro gli uccellini, ma stava cercando di capire da dove potesse provenire quella voce, viene richiamato da Virgilio, che più di una volta gli suggerisce di essere breve, di essere... di non perdere tempo, di non ascoltare, non ti curare di loro, ma guarda e passa. perché il tempo che ci viene offerto deve essere utilizzato nella maniera migliore. Allora, lo più che padre, ed è per antonomasia più che padre Virgilio, mi dicea, dicea con caduta della labiale, la vi diceva, figliuole o figlio. Guardate che il figliuole deriva, con l'uscita in è un vocativo, deriva da filius che con olus ha il diminutivo. Voi sapete che in latino noi abbiamo ino, uccio, per fare i diminutivi, i vezzeggiativi, in latino ha l'olus, olus, da filius, figliuole invocativo, o piccolo figlio, o figliuolo, no? O figliuolo. Figliuolo in senso spirituale, no? Perché Dante riconosce in Virgilio una sua guida, non soltanto una guida come poeta, no? Come espressione di una tradizione artistica che arriva da molto lontano, ma in questo caso è la ragione, è l'allegoria della ragione. Quindi se Dante riconosce in Virgilio il maestro è evidentemente che per Virgilio Dante diventa un figliuolo. Viene ormai, vieni ormai, abbiamo una n in più, c'è un'epitesi, ormai che si suole compartire il tempo che ci è imposto più utilmente. Dobbiamo utilizzare il tempo che ci è stato concesso in modo più intelligente. Io volsi il viso e il passo non mentosto appresso i savi che parlavano sia che l'andare mi faceva di nullo costo. e anche qui vedo che c'è una caduta della labiale. Ogni tanto trovo qualche cosa. Va bene. Allora, io volsi il viso, viso più che faccia intendiamo la vista, visus latino, e il passo non mentosto, e il passo non fu meno pronto, tosto, ricordate, l'ho già individuato in altri canti, deriva da rostus, bruciato, ma dato che il fuoco ha una forza così travolgente, da questo aggettivo, rostus, bruciato, ne è scaturito il presto, il veloce, l'incalzante, quindi tosto in italiano vuol dire velocemente, e il passo fu meno, non fu, meno veloce della vista che si era rivolta a Stazio e a Virgilio, appresso appunto i savi, per antonomasia, definiti i savi perché poeti. Il poeta diventa un vate, non siamo nella poesia contemporanea, è un vate che deve dire qualcosa agli uditori, che ha un messaggio da comunicare. è una tradizione anche questa che arriva da molto lontano, dal mondo greco, e quindi i poeti diventano savi per antonomasia, che parlavano sì, aggiunto una E, quindi epitesi, sì, che facevano andare a me l'andare, il viaggio, permettevano il mio viaggio senza nessuna fatica. Facevano, oltre al troncamento, c'è la caduta della labiale perché non c'era lì, lo avrebbe dovuto esserci, scrivo, facevano. Ed ecco, pianger, mi è stato chiesto perché ci sono queste epitesi, ci sono queste epitesi perché bisogna rispettare un certo numero di sillabe, c'è una metrica, c'è un ritmo, ci sono delle rime, perciò è necessario qui che questo sie, udie, parturie, che sono tutte epitesi, entrino in sintonia uno con l'altro. ed ecco, pianger e cantar su die, labia, mea, domine, per modo tal che diletto e doglia parturie. Ed ecco che si udì, attenzione, anche qui un'epitesi, viene fuori udì, si sentiva udire, si udiva allo stesso tempo piangere ma cantare. E che cosa si cantava? Il Salmo 50 al verso 17 labia, mea, domine, apri le mie labbra, signore. Il Salmo dice, signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Per modo tal in modo tale che questo canto e il come questo canto veniva presentato produceva allo stesso tempo diletto e doglia, un'antitesi. Il parturie deriva dal parturire per esteso produrre. Producevano allo stesso tempo gioia e dolore e sofferenza. Perché questo concetto verrà ripetuto anche in seguito ma l'abbiamo già visto altre volte nel purgatorio e sarà presente ancora in passi successivi. La purificazione è sofferenza. però allo stesso tempo è gioia perché si sa per certo che dopo questa sofferenza c'è il godimento eterno, c'è il regno dei cieli per l'anima credente. O dolce padre che quel chiodo comincia io ed è lì ombre che vanno forse di lor dover solvendo il nodo. O dolce padre di nuovo per antonomasia padre l'abbiamo già detto prima perché che cos'è quello che io sento. Io dissi e Virgilio risponde prontamente sono ombre che vanno forse solvendo il nodo del loro dovere cioè è una metafora il nodo sciogliendo quel che devono il debito che devono come loro dovere per poter salire al cielo. nodo è evidentemente una metafora nel senso che possiamo metterci il come allora a questo punto diventerà una similitudine perché devono sciogliere quell'inciampo quell'ostacolo come se fosse come se fosse un nodo che non gli permette di salire al cielo ma che diventa un dovere necessario e un passaggio da cui non possono esimersi. sì come i peregrin pensosi fanno giugnendo per cammin gente non nota che si volgono ad esse non restanno così direttro a noi piuttosto mota venendo e trapassando ci ammirava Danine e Turme tacita e devota una lunga beh non proprio lunga considerando che ce ne sono Dante di molto più complesse però una similitudine come i pellegrini mi raccomando pellegrini abbiamo già detto tante volte deriva da peragrare cioè peragros attraverso i campi viaggiare attraverso i campi i pellegrini una volta viaggiavano attraverso i campi oggi non è più così non necessariamente più così quindi il pellegrino è il viaggiatore che lo vedremo in seguito piuttosto mota che si muove motus mosso tosto come prima deciso deciso quindi viaggiavano con maggiore decisione di Virgilio e Dante quindi sorpassano Virgilio Dante e Stazio e allo stesso tempo per un momento tacciano e guardano meravigliate vediamo un po' come i peregrini pensosi fanno come fanno i peregrini pensosi quando attraverso il cammino si incontrano con gente non conosciuta ricordatevi questa rima a mezzo peregrini e cammin che sorpassandola senza fermarsi non restano non restano non si fermano anche qui c'è un n in più c'è un'epentesi non si fermano dal verbo restare latino non si fermano ma si volgono verso essa per capire chi possa essere così dietro a noi mota piuttosto mossa come abbiamo detto più si muoveva più rapidamente venne ci superò e allo stesso tempo ci ammirava ad ammirare il latino guardava con meraviglia una turba d'anime tacita e devota quindi la costruzione è poi una turba d'anime tacita e devota ci ammirava turba anche questo è latino che vuole intendere un insieme folto di persone devota deriva da devovere che vuol dire votarsi alla divinità perché ormai certa di poter accedere ai ai cieli alla alla mistica rosa al premio celeste ecco dunque questi sono le gli attributi sembra che questo tacita sia in contraddizione con quello che è scritto prima se stava cantando come fa a essere tacita ma a un certo punto siamo in poesia non siamo in una espressione di matematica d'altra parte costoro possono aver benissimo queste ombre aver sospeso il canto nel momento in cui superano i tre poeti e per curiosità li guardano cercando anche loro una risposta visto che l'incontro è fuori dalle regole negli occhi era ciascuna oscura e cava palida nella faccia e tanto scema che dalla ossa la pelle si informava questi queste immagini si richiameranno perché più di una volta le troveremo qui ad esempio la pelle di queste anime viene definita buccia buccia quasi che sia rimasta solo la buccia e l'osso non è rimasto null'altro sono anime incavate per la fame per l'astinenza quindi negli occhi gli occhi ognuno era oscura e cava quando si è particolarmente magri gli occhi diventano incavati e adombrati la faccia era pallida e tanto scema da semis che vuol dire mezzo deriva poi semus non completo scemo italiano quindi deriva da questa parola latina nel senso che tanto erano magri tanto erano sofferenti che sembravano delle delle immagini non complete mancasse qualche cosa e la spiegazione è questa la pelle si informava dalle ossa sotto la pelle non c'erano più muscoli la pelle copriva direttamente il il teschio non credo che così a buccia strema e risittone fosse fatto secco per digiunare quando più nebbe tema allora è una metafora buccia estrema non credo la pelle viene definita buccia strema ripeto la differenza tra metafora e similitudine sarebbe stata una similitudine se ci fosse stato scritto la pelle sembrava una buccia estrema la pelle era come la buccia estrema qui invece non abbiamo nel come nel sembrava direttamente si predica buccia estrema della pelle quindi siamo in piena metafora e c'è un richiamo alla mitologia e risittone figlio di un re della traccia si era permesso di qui ho dimenticato una O di tagliare degli alberi sacri a Cerere lo condanna ad una fame infinita per cui Erisito ne vende tutto addirittura vende la figlia e poi alla fine non avendo più nulla per poter comprarsi da mangiare in un'estrema disperazione comincia a mangiare se stesso quindi per esprimere in qualche modo per dare un'idea di quanto queste anime si presentassero magre patite Dante ripropone una immagine mitologica secco da sicus latino col significato di magro fosse fatto secco per digiunare quando più ne ebbe tema quando ebbe maggior timore di morire di fame e che arrivò appunto a mangiare delle proprie carni io io dicea fra me stesso pensando ecco la gente che perde Gerusalemme quando Maria nel figlio diede di becco c'è un riferimento a Tito a 70 dopo Cristo quando Gerusalemme viene presa dai romani noi sappiamo che gli ebrei si trovarono circondati in assedio e vennero presi anche proprio per mancanza di alimenti per mancanza di acqua e si disse di una donna che addirittura si era cibata delle carni del proprio figlio e di nuovo due immagini una mitologica che arrivava dalla tradizione greca l'altra invece pur non della Bibbia ma Giuseppe Flavio ne parla è uno storico del mondo ebraico vengono presentate assieme senza alcun problema in una prospettiva di continuità quindi la prima immagine mitologica la seconda invece storica perché effettivamente un fatto avvenuto nel settanta quando Gerusalemme viene distrutta e dopo aver pensato quindi a Erisittone Dante pensa alla gente che gli abitanti di Gerusalemme nel settanta quando una certa Maria arrivò a dare di becco nel figlio di cibarsi del figlio diede manca il de finale quindi è una a poco ovviamente dicea manca la v e quindi è la caduta di una labiale c'è poi una enjambevan come vedete e le parti sottolineate si presentano come anastrofi insiste su questa immagine parea l'occhiaie anella senza gemme chi nel viso degli uomini legge omo ben avrea qui vi conosciuta l'emme pensateci per un momento nell'antichità si riteneva che il naso il setto nasale e poi l'orbita degli occhi segnassero una m dentro le due o due o più m omo ma qui in modo particolare visto che le occhiaie sembravano anelli senza gemme potrebbe anche essere questa una similitudine chi nel viso degli uomini legge omo ben qui avrebbe attenzione che c'è condizionale in ia avrebbe ben riconosciuto la m perché gli occhi erano talmente incavati che davano e risaltavano la parte esterna quella appunto delle orbite chi crederebbe che l'odore d'un pomo si governasse generando brama e quel d'un'acqua non sapendo come qui comincia a svelarci Dante da dove proveniva questa punizione il profumo di una pianta con i suoi frutti e dell'acqua una parte dall'altra generavano fame una fame che non poteva essere in qualche modo accontentata e perciò il corpo si arrivava a squamarsi a squamarsi addirittura dopo parlerà di labbia cangiata labbia eccetera vediamo un po' chi potrebbe credere che il profumo di un frutto pomus latino pomum latino frutto si governasse potesse possa essere così determinante generando brama brama è un gotismo un gran desiderio un desiderio incontenibile e lo stesso vale per l'acqua se non sapendo come attenzione che questa è una subordinata condizionale c'è il gerundio alla maniera latina con più congiuntivo ma sono quei gerundi che in latino per portare in italiano devono essere svolti altrimenti non rendono l'idea anche qui se noi non lo svolgiamo questo gerundio non riusciamo a coglierne il significato non sapendo come vuol dire se non si conosce la ragione ecco come potrebbe uno pensare che una vela è dell'acqua il loro profumo possa determinare un disfacimento così del corpo se non sapesse il perché già era in ammirar che si li affama per la cagione ancora non manifesta di lor magrezza e di lor trista squama ed ecco del profondo della testa volse a me gli occhi un'ombra e guardò fisio poi gridò forte qual grazia a me questa io ero ancora questo sempre ammirare che deriva da ammirare il latino che significa destare stupore ero stupito a guardare nel viso di queste ombre ciò che li affannava e li affamava allo stesso tempo come potevano essersi ridotte così anche perché non ne avevo ancora conosciuto la ragione qui la ragione ce l'ha detta il pomo l'acqua però in quel mentre ha proposto un'anticipazione perché ormai il viaggio è terminato ma in quel momento Dante non ne conosceva ancora la ragione e quindi lui dice la cagione deriva da occasione l'occasione la ragione di questo fatto non mi era ancora manifesta non mi era ancora chiara sia della loro magrezza sia della loro triste squama squama in latino vuol dire pelle secca no e questo l'or l'or che è insistente ci presenta una anafora la trista poi triste predicato da squama che vuol dire mesta afflitta è una metonimia perché evidentemente non è la pelle che afflitta ma è chi la porta la pelle il come potremmo dire il proprietario di questa pelle che sono appunto le ombre dei penitenti quindi Dante era ancora lì ad ammirare a chiedersi la ragione di questa magrezza di questo loro stato di pelle secca di ed ecco che dal profondo della testa dal profondo proprio perché questa testa sembra quasi sprofondare nel cranio visto che manca mancano i muscoli volse dunque un'ombra volse a me gli occhi e mi guardò fisso è importante questo fixus che abbiamo visto tante fisus che vuol dire tante volte quasi per scrutare l'abbiamo già visto se voi vedete qua all'inizio ecco vedete questo figere ficcava io sì ficcare fissare come per trovare una risposta quando gli occhi fissono qualcosa o qualcuno per trovare una risposta e questo questo ora poi riconosce fate notare notate che riconosce già subito il fatto che dante sia ancora vivo dall'ombra che proietta in terra e infatti esclama qual grazia me questa grazie intesa come dono che dono è mai questo che tu possa passare qui ancora vivo attraverso le cornici del purgatorio mai non l'avrei riconosciuto al viso ma nella voce sua mi fu palese ciò che l'aspetto in sé avea conqueso non l'avrei mai riconosciuto alla vista viso su vista ma nella sua voce mi fu palese palese da pala ma verbo chiaro mi fu chiaro manifesto ciò che l'aspetto avea avea caduta dalla labiale in qualche modo nascosto conquirire vuol dire richiedere cioè l'aspetto avea in un certo senso richiesto istintivamente di chi fosse quella immagine tanto era deformata questa favilla tutta mi raccese mia conoscenza alla cangiata labia e ravvisai la faccia di forese questa favilla questa luce che nasce dalla voce dell'amico ormai trapassato tutta mi raccese tutta mi illuminò evidentemente anche questa è una metafora la favilla è una scintilla e accese la mia conoscenza di fronte alla labia cangiata labia vuol dire labbra però è una sineddoche non sono solo le labbra che sono cambiate labia è tutta l'immagine tutto il viso quindi era accesa la mia conoscenza sebbene il viso fosse notevolmente cambiato e riconobi finalmente forese forese era noto perché era un golosone e tra forese e Dante erano partiti molte composizioni che fanno parte della produzione comica e infatti ne ho riportata qualcuna qui la 75 Dante scrive a forese 20 faranno il nodo salamone bicci lo chiamavano bicci per distinguerlo dal nonno bicci novello e petti delle starne ma peggio figlia la lonza del castrone che il cuoio farà vendetta della carne o bicci novello i petti di questi polli starna è una specie di volate un pollo ti faranno il nodo di salomone il salomone è un nodo abbastanza complesso ti rimarranno in gola ti rimarranno nel gozzo ma peggio ti farà la lonza del castrato e il cuoio di questa lonza farà vendetta sulla carne e poi ancora in un'altra di queste di questi sonetti la 76 scrive sei costretto andare a rubare a torre l'altrui perché hai speso tutto per mangiare e gozzovigliare quindi Forese era noto per avere questo brutto vizio inizio della gola ma di queste rime ne vedremo altre in seguito De dice Forese non contenderà l'asciutta scabbia che mi scolora pregava la pelle ne ha difetto di carne ch'io abbia rivolgendosi a Dante lo invita a non contendere a non rivolgersi verso l'asciutta scabbia la scabbia è una malattia una malattia della pelle per cui questa è una metonimia non è tanto la scabbia quanto l'effetto della scabbia di una probabile possibile malattia non guardare il mio aspetto che mi toglie ogni fattezza umana mi scolora mi toglie anche il colore pregava la pelle scusate mi scolora la pelle che toglie colore la pelle né ha difetto di carne che io abbia né e non guardare neppure alla poca carne che ho nel viso ricordati di altro ricordati ricordate difetto difetto da deficere defectum e poi vuol dire mancanza l'invito di forese è ricordare anche quello che era stato lui in vita sebbene questo ricordo è un ricordo abbastanza problematico per entrambi vediamo il perché ma dimmi il verdite di chi sono quelle due anime che la ti fanno scorta non rimanere che tu non mi favelle non guardarmi per quello che sono adesso non guardare la mia pelle non guardare il difetto della carne ma io sono curioso parlami di te e chi sono quelle due anime che ti sono che sono tue compagne in questo viaggio non fermarti senza parlarmi favelle da fare latino vuol dire appunto parlare la risposta di Dante sostanzialmente Dante gli dice sì io ti dico tutto quello che vuoi rispondo però prima mi devi spiegare perché sei in questo stato no vediamo un po' la faccia tua che io lagrimai già morta mi dà di piangere no minor doglia risposi io lui veggendola si torta la tua faccia che io piansi quando tu lasciasti questo mondo lagrimai invece invece di lacrimai sono due forme che derivano appunto dal latino la lacrima e quindi c e g in questo caso la velare da sorda la c velare da sorda diventa sonora diventano degli allotropi perché si può dire lagrimare e si può dire lacrimare ora il tuo aspetto mi dà di piangere mo vuol dire modo e quindi abbiamo anche un apocope con un dolore non minore doglia dal dolere latino dolersi con un dolore non minore gli risposi vedendoti in questo stato tortus tortus vuol dire deformato veggendola così deformata anche qui veggere no veggendo vedendo sono due forme una parte abbiamo la dita l'altra è una g e possono essere definite due allotropi tutte e due dipendono da video video è latino però è venuta fuori lungo i secoli anche l'altra l'altra espressione con la doppia g adesso attenzione a questa a questa terzina che sembra quasi con un con un momento onomatopeico sembra quasi che Dante Balbetti quasi così vedendo il suo amico in questo stato però notate i monosillabi e i troncamenti che fanno diventare monosillabo anche un bisillabo e il ripetere di questo dir dir che può definirsi un epanaressi ma ce ne sono altri c'è far mal può che chi pien che si vi notate il il senso il la sensazione che dà questa terzina però mi di per Dio che si vi sfoglia non mi far dir mentre io mi maraviglio che mal può dir chi è pien d'altra voglia però dimmi dimmi in nome di Dio che cosa ti sfoglia è una metafora ne abbiamo viste altre che cercano di rivelare questa questa espressione di sofferenza di magrezza cos'è che vi sfoglia non mi fare parlare mentre io sono qui che mi meraviglio a guardarti che chi è pieno d'altra voglia chi è pieno di altro desiderio difficilmente riesce a parlare liberamente prima dammi una risposta ed egli a me dell'eterno consiglio cade vertù nell'acqua e nella pianta rimasa dietro un Dio sì ma sottiglio egli era tino ed egli mi rispose per te consiglio me consulere deliberare per una delibera eterna che nasce da Dio cade una forza nell'acqua e nella pianta che sono rimaste indietro per cui io mi assottiglio dimagrisco in questo modo tutta esta gente che piangendo canta per seguitare la gola oltra misura infame in sete qui si rifà santa esta è latino ist ist tutta questa gente che canta ma mentre canta piange per la sofferenza che deve patire per aver dato troppa attenzione alla gola quando era ancora in vita qui si rifà santa paga il debito nella fame e nella sete di bere e di mangiare nascende cura l'odor che esce del pomo e dello sprazzo che si distende su per sua verdura e proviamo a fare la costruzione il profumo che esce da questi frutti e dalla fonte che si riversa sul campo sul verde accende in noi la cura il desiderio quindi la necessità di bere e di mangiare e non pur una volta questo spazzo girando si rinfresca nostra pena io dico pena e dovrei dire solazzo che quella voglia agli alberi cimena che meno Cristo lieto a dire lì quando ne liberò con la sua vena il pur è rafforzativo come al solito e girando questo spazio questo questo spiazzo questo percorso non solamente una volta si rinfresca la nostra pena viene ripetuta questa pena ma subito l'anima si riprende e dice io dico pena ma dovrei dire gioia solazzo da solacium conforto attenzione dovia che condizionale mia e questo spazio che deriva da spazi un suolo pavimento quindi girando attorno la cornice ogni volta si rinnova questa sofferenza ma è una sofferenza gradita perché sappiamo che attraverso questa sofferenza noi possiamo purificarci e raggiungere la pace celeste e spiega perché questa pena è anche un sollazzo e un conforto perché quel desiderio ci mena ci conduce agli alberi mena già più di una volta ho individuato come punto di riferimento etimologico minari che vuol dire minacciare per esteso poi vuol dire condurre con decisione quindi non è che mena vuol dire minacciare ma condurre con decisione che quella voglia che quel desiderio ci conduce agli alberi in una tensione che si potrebbe e questa è una similitudine definire simile a quella che Cristo che condusse Cristo a dire e lì anche qui una perifrasi cioè a raggiungere la croce sulla croce Cristo dirà e lì e lì la massa Bactani Dio mio Dio mio perché mi ha abbandonato quindi anche qui una perifrasi non ho segnata vabbè quindi quando ne liberò con la sua vena quando ci liberò attraverso la redenzione ci liberò dal nostro peccato attraverso il suo sangue vena contenitore a posto del contenuto metonimia e io a lui Forese da quel dì nel quale mutasti mondo a miglior vita cinque anni non sono volti fino a qui o Forese dal giorno in cui sei morto in cui sei passato una vita migliore non sono neanche non sono neppure passati cinque anni a volte vuol dire volgere passare attenzione qui che abbiamo un iperbato abbastanza complesso ho dovuto mettere i numeri perché a volte se prima fu la possa in te finita di peccar più che sovenisse l'ora del buon dolor cadio ne rimarita com'è se tu qua sovenuto ancora allora se la possa cioè il potere deriva da posse latino di peccare più fu finita in te prima che arrivasse l'ora del buon dolore cioè del ravvedimento che ci riunisce a Dio rimarita è un termine che viene ripreso dalla Bibbia allontanarsi da Dio biblicamente era un adulterio quindi ritorniamo nuovamente in pace con Dio e quindi è una metafora presa dalla Bibbia come mai sei già arrivato qui quindi il significato di tutto questo discorso è come mai tu che ti sei pentito all'ultimo minuto e sei stato quindi tardo sei stato negligente sei già qui avresti dovuto rimanere fuori nell'antipurgatorio tutto il tempo che corrispondeva agli anni della tua vita e invece sono passati neanche cinque anni e ti trovi già in questa cordice perché non solo tu hai peccato di gola ma hai peccato anche di negrigenza la negrigenza ti avrebbe costretto a rimanere là nel purgatorio e invece sei già qui a scontare il tuo peccato la tua mancanza primaria io ti crede a trovare la giù di sotto dove tempo per tempo si ristora caduta della labiale anche qui io credevo di trovarti la giù sotto cioè nell'antipurgatorio dove il tempo del pentimento si ristora si paga con il tempo dell'esclusione ristora deriva da restaurare cioè vuol dire ristabilire un ordine quindi con il tempo dell'esclusione si ristabilisce un ordine che era stato violato il fatto cioè di essersi pentiti troppo tardi in modo quindi negligente ed ecco qui la bella risposta dell'amico che gli confida ondegli a me si tosto ma condotto a ber lo dolce assenso di martiri l'anella mia con il suo piangere dirotto ed egli mi risponde mi ha condotto così presto ricordatevi sempre tosto l'abbiamo già visto prima a bere il dolce assenso di martiri dolce assenso è uno simoro assenso è amaro come fa l'assenso essere dolce è amaro perché è indubbiamente una penitenza ma è dolce come abbiamo già visto prima perché ci apre apre almeno a quest'anima il regno dei cieli dei martiri martiri è il martirium deriva dal martirium latino tomba di un martire chi soffre tormenti quindi martiri quindi per estensione vuol dire l'assenso il dolce assenso dei tormenti delle sofferenze e quindi mi condusse qui prima del tempo la nella mia mia moglie che si chiama Nella con le sue preghiere e con il suo piangere allora pensate un po' Nella viene recuperata in una prospettiva angelica da parte di Dante Dante in qualche modo si pente di quella vita scapestrata che aveva condotto al tempo di Farese quando quando entrambi scrivevano dei soneti piuttosto pesantucci addirittura Nella è la protagonista di un sonetto di Dante dove non ci fa una bella figura pensate cosa aveva scritto Dante chiudisse tossir la malfatata moglie di Bici forese potrebbe dire che la forse vernata dove si fa il cristallo in quel paese presenta Nella che tossisce malfatata con destino avverso moglie di Bici forese potrebbe pensare che fosse stata al polo nord di mezzo agosto la trovi infreddata or sappi che del far ad ogni altro vese se la trovi raffreddata nel mezzo d'agosto penso un po' come sarà in tutti gli altri mesi e non le val perché dorma calzata merced del copertoio ca cortonese e non gli serve dormire con le calze la colpa è della coperta che è troppo corta vediamo l'ironia e i riferimenti sarcastici di questo sonetto la tosse il freddo e l'altra mala voglia non la doviene per omor che abbia vecchi ma per difetto che la sente al nido il fatto che abbia la tosse abbia il freddo non gli proviene dagli umori gli umori ormai vecchi quindi dà a questa donna anche il titolo di vecchia ma perché il nido cioè il letto è freddo il marito non è mai presente probabilmente perché in cerca di avventure piange la madre di Nella che ha più di una preoccupazione e dice l'assa che per fichi secchi messa l'avrei in casa del conte guida avrei potuto ammogliarla in altro modo a questo a questo sonetto risponde l'amico e molti hanno ritenuto la risposta non adeguata e piuttosto volgaruccia ma a noi poco interessa a noi ci piace leggere questi questi scritti per avere un'idea dei due poeti evidentemente l'altezza di Dante rimane sempre un'altezza anche nella poesia comica a volte anche pesante e grossolana l'amico non riesce forse ad elevarsi più di tanto però conosciamo i loro peccatucci di gioventù fossero solo questi oggi l'altra notte mi venne una gran tosse risponde l'amico a quella a quel sonetto di Dante cercando di rimanere in sintonia per chi non avea che tenere addosso ma incontanente che fu di fu immosso per gir a guadagnare ove che fosse sebbene avessi la tosse arriva il giorno e sono uscito perché dovevo guadagnare e trovarmi il pane per vivere sappiamo però che l'amico di Dante non aveva solo bisogno di pane ma anche di un abbondante comparatico udite la fortuna ove ma addosso chi credete di trovare perle in un bosso e ben fiorin coniati d'oro rosso e vi trovai la ligher tra le fosse perché i commentatori dicono che non è all'altezza perché con i morti non si dovrebbe mai scherzare alla ricerca di fiorini alla ricerca di perle alla fine invece l'amico di Dante trova il padre di Dante che sembra che fosse un usuraio perciò l'usura era una cosa gravissima a quel tempo ed era condannata molto severamente legato legato a nodo non si capisce bene se sia questo il nodo che io non saccio il nome non so il nome di questo peccato se fu di salamone o d'altro saggio allora mi segnai verso il Levante e poi mi disse per amor di Dante sciogli e di non poti vedere come e io non riuscii a capire come tornai addietro e compievi il viaggio e continuerai per il mio viaggio sono cose evidentemente che conoscevano bene tra di loro probabilmente il padre aveva peccato in qualche cosa e per rispondere in sintonia al sarcasmo piuttosto pesante di Dante rivolto alla moglie noi abbiamo Forese che sforna questa composizione quindi vedete che da giovani nei tempi passati questi due se le erano date di santa ragione in modo però non abbastonate ma attraverso queste poesie burlesche quindi in qualche modo la vedova viene in qualche modo riabilitata si presenta una donna fedele al marito e che piange il marito che prega per il marito e grazie alla sua preghiera alla sua contrizione alla sua sofferenza il marito passa velocemente l'antipurgatorio ecco la risposta che viene data sostanzialmente da Forese a Dante con sui prieghi devoti e con sospiri tratto ma dalla costa ove s'aspetta e liberato ma degli altri giri con i suoi preghi con i suoi preghiere con i suoi sospiri con i suoi spianti mi ha tirato su dalla costa dove s'aspetta dall'antipurgatorio e mi ha liberato per poter affrontare gli altri giri tanto è a dio più cara e più diletta la vedovella mia che molto amai quanto in bene operare più soletta e la mia vedova è ancora più gradita di io perché è nell'operare nell'agire rimasta sola isolata in una Firenze che purtroppo presenta delle donne che di virtù ne hanno molto poca e qui inizia per bocca di Forese una lunga invettiva anche se non è particolarmente violenta almeno secondo me rispetto a tante altre invettive di Dante che la barbagia di Sardigna assai nelle femmine sue più epudica che la barbagia dove io lasciai barbagia è una regione della Sardegna considerata una regione barbara dove sembrava che le donne si presentassero con vestiti non proprio del tutto dignitosi ma questa barbagia presa per antonomasia e vista con una in una prospettiva di esempio negativo ci dice che pur nella sua barbarie è migliore più pudica della barbagia fiorentina notate barbagia e barbagia e panalessi barbagia forse l'ho già detto intesa come per antonomasia come un luogo di barbarie dunque inoltre è un iperbato perché è assai più pudica perché viene proprio spezzato un sintagma è assai più pudica vedete che era barbagia di sardegna è assai più pudica nelle sue femmine e continua o dolce frate che vuoi tu chi o dica domanda retorica frate latino tempo futuro mi è già nel cospetto c'è presentata una specie di profezia una cui non sarà quest'ora molto antica nel qual sarà in pergamo interdetto alle sfacciate donne fiorentine l'andar mostrando con le poppe il petto o frate cosa vuoi che ti dica mi è già nel cospetto un tempo futuro che non sarà molto lontano da oggi non sarà molto antica quest'ora qui quest'ora non sarà molto antica è un alitote cioè si nega ciò che si vuole affermare nel quale questo tempo in pergamo pergamo è un luogo elevato quindi probabilmente dal pulpito sarà interdetto alle donne sfacciate fiorentine di andare in giro mostrando il petto nudo anche qui secondo me c'è un iperbato perché viene spezzato un siglitagma sarà interdetto sarà in pergamo interdetto altrimenti vedetelo semplicemente come un anastrofe quai barbare fuor mai quai saracine cui bisognasse per farle ir coperte o spirituali o altre discipline allora fuor vediamo di ricordarci subito furono quindi c'è una pocope c'è una domanda retorica c'è un ir che deriva da latino ire oltretutto introncamento poi abbiamo delle parole che per antonomasia ci possono dare come per quelle di prima quando abbiamo parlato di barbagia ci possono dare anche se in una prospettiva che dovremmo correggere oggi l'idea di donne dissolute quindi parliamo quali barbare quali donne barbare ci furono mai e quali donne saracene nell'idea comune di allora nel senso comune di allora il mondo saraceno era un mondo barbaro ed era un mondo lussurioso per cui come per la barbagia di prima così barbare e saracene si presentano un modo di essere scostumato per antonomasia ecco quindi in questa domanda retorica c'è già la risposta mai ci furono delle donne in queste condizioni mai le abbiamo trovate le troviamo solamente a Firenze ma se le svergognate fossero certe di quel che il cielo veloce loro amman già per urlare avriano le bocche aperte ma se le svergognate donne fiolentine fossero sicure di quello che il cielo velocemente prepara loro amman ammanire vuol dire preparare già avrebbero avriano e un condizionale in oltre al troncamento le bocche aperte solo per urlare cioè viene profetizzato un tempo di punizione per la sfacciataggine disonesta di queste donne che perché nel purgatorio le anime riescono a vedere qualche cosa nel futuro anche se non in modo completo e esatto come le anime del paradiso che possono contemplare direttamente il futuro in Dio che se l'antiveder qui non mi inganna antiveder composto da antevidere se il prevedere il futuro qui non mi inganna prima fien triste che le guance impelli colui che si consola con la nanna che presto saranno tristi quindi presto andranno incontro alla punizione questo fien è una forma antica del verbo essere saranno triste prima e quindi abbiamo una perifrasi prima che colui che mo ora anche qui latino avverbio che deriva da modo ora colui che ora viene consolato dalla nanna e una parola onomatopeica abbia le guance coperte di barba quindi nel giro di 14 15 anni al massimo queste saranno punite in qualche modo vediamo di capire meglio che se la mia capacità di vedere il futuro non mi inganna queste saranno punite prima che colui che oggi si consola viene consolato con la nanna nanna avrà le guance coperte di pelle quindi pensando che a 13 14 anni comincia a crescere la barba quindi nel giro di 13 14 anni mo in un apocope perché sta per modo adesso io ti ho spiegato tutto adesso fammi piacere caro Dante dimmi un po' di te spiega un po' perché fai questo viaggio e chi sono le anime che ti stanno accanto dei frate or fa che più non mi ti cieli vedi che non pur io ma questa gente tutta rimira laddove il sol veli fratello ora non nasconderti più a me dal verbo celare latino che è il doppio accusativo celare te a me non celarti più a me non nascondermi il tuo viaggio vedi questo pur ha valore intensivo rafforzativo che non solamente io ma tutta questa gente sta rimirando la mirror stupita da che cosa è stupita c'è una perifrasi bastava che dicesse dalla tua ombra invece dice Dante è stupita rimira laddove tu veli il sole un'anastrofe quindi è tutta ammirata e stupita per la tua ombra quindi si sono accorti tutti che tu sei un essere uomo ancora vivo in carne d'osse per chi ho a lui se tu riduci a mente qual fosti meco e qual io teco fui ancor fia grave il memorare presente allora riduci da riducere ricondurre se tu riconduci alla mente quale tu fosti per me e quale io fui per te ancora potrebbe essere grave questo ricordo nel presente perché insomma ci stiamo ricordando di quando eravamo degli scapestrati e il ricordo non è piacevole perché tu sei qui proprio perché sei stato scapestrato nella vita e io sto affrontando questo viaggio proprio per purificarmi prima di andare incontro all'esperienza che hai passato tu questo fia sempre antica forma di essere e questo gravis grave importante deriva dalle dire oneroso sarebbe oneroso di quella vita mi volsi costui che mi va inanzi l'altrier quando tonda vi si mostrò la sua ora di colui e sol mostrai costui per la profonda notte menato ma di veri morti con questa vera carne che è il seconda da quella vita che abbiamo passato scapestratamente assieme costui mi volse quindi la costruzione costui mi volse mi allontanò da quella vita costui che mi va inanzi che mi precede l'ho incontrato l'altro ieri quando la suora di colui e il sol mostrai la sorella di colui cioè del sole che ebbe a mostrare vi si mostrò nella tutta tonda cioè in luna piena anche qui suora e solo soloris vuol dire la sorella la sorella del sole e poi la suora di colui e il sol mostrai eccetera è una perifrasi avrebbe potuto dire semplicemente quando la luna vi si mostrò tutta nel suo splendore riprende a presentare Virgilio costui cosa ha fatto mi ha menato mi ha condotto attraverso la notte profonda è una metafora la notte profonda è l'inferno oscuro come una notte profonda e mi ha condotto attraverso i veri morti non quelli che sono morti perché hanno lasciato il corpo in terra ma quelli che sono morti definitivamente perché hanno perso il ben dell'intelletto e mi sta menando mi sta conducendo con questa carne che in questo momento è mia è qui ed è quella che adombra i raggi del sole e che vi fa tanto stupire indi m'han tratto su i suoi conforti salendo e rigirando la montagna chiedrezza a voi che il mondo fece torti quindi le sue parole di conforto mi hanno tratto su mi hanno guidato su per queste cornici salendo e girando attorno a questa montagna la montagna della purificazione che sta drizzando voi che vi sta purificando voi che siete stati invece torti tortus col valore di deformato peccatori che siete stati deformati dal mondo in cui siete vissuti tanto dice di farmi sua compagna che io sarò la dove fia Beatrice dice di farmi sua compagna tanto dice che mi dovrà accompagnarmi tanto con valore latino solamente fino a quando io arriverò dove troverò Beatrice di nuovo questo fia forma antica del verbo essere qui una volta arrivato da Beatrice conviene purtroppo è cosa giusta che rimanga senza di lui Virgilio è questi che così mi dice e additalo questo è Virgilio questo è il poeta che mi parla con queste parole e lo additai e quest'altro è quell'ombra per cui scosse di anzi ogni pendice lo vostro regno che da sé lo scombra e quest'altro avrebbe potuto dire Estazio è l'ombra per la quale il vostro regno scosse appena da poco tempo la sua pendice ogni omnis da latino tutta la sua pendice perché lo scombra da sé lo allontana da sé lo libera da sé perché ormai ha trascorso il tempo della purificazione e ormai è destinato con noi alla vita eterna e ai cieli ideati ecco